Buonasera, benvenuti a questa puntata di Instant Book, idee e scritture per il futuro. Abbiamo ospite con noi oggi Gaia Silvestri, una scrittrice tarantina, che è uscita da poco per i tipi dell'Albatross con il romanzo La Corsa. Allora Gaia, raccontaci un po' la storia di questo romanzo. Io ho frequentato un corso di scrittura creativa, è durato sei mesi. Dove l'hai frequentato? A Massafra. In occasione dell'ultima lezione il prof ci dì un foglio bianco e ci lanciò la proposta di scrivere quello che ci saltava in mente. Così ho fatto, ho scritto una pagina e poi è nato il primo capitolo, mi hanno suggerito di continuare. Così è stato, ho continuato nel vero senso della parola per circa tre settimane. Alla fine è nata La Corsa. Senti Gaia, da chi era organizzato il corso di scrittura? È da Michelangelo Zizi, un collaboratore di un'associazione culturale di Massafra, Calliope, di Martina Franca, il quale è stato un valido insegnante. È lui che ti ha suggerito poi di continuare, quindi di provare una pubblicazione. Vediamo la copertina del libro. Quindi stavi dicendo, hai cominciato a scrivere, questa cosa è piaciuta, questa prima pagina è piaciuta al tuo insegnante e quindi hai... Ho continuato, ho continuato proprio senza staccare la penna dal foglio, quindi H24, ho continuato e poi mi hanno fatto un editing grossolano. Ho inviato questo racconto al gruppo Albatross, sollecitata da mia sorella e dopo venti giorni è arrivato il contratto sottoscritto da loro, al quale ho aderito. Ho pubblicato ed è nata questa avventura da pochissimo, da un paio di mesi. L'ho presentato all'inizio di dicembre a Massafra in questa associazione culturale Calliope, una compagnia teatrale, il Teatro del Mare, lo ha messo in scena perché probabilmente la scrittura era suscettibile per questa messa in scena. È stata un'idea molto originale di presentare un libro, abbinare il teatro alla scrittura, anche perché sono due aspetti della cultura che si interfacciano benissimo. L'idea è stata vincente, il libro ha avuto un riscontro, oltre che affettivo e di stima, anche concreto, di acquisto del libro, rilevante. Per me è stata una soddisfazione enorme, dopodiché ho avuto un seguito, l'abbiamo presentato a Roma, questa è organizzata dal gruppo Albatros, in una libreria tra le righe in via di Gorizia, con un'altra formula. Eravamo in cinque autori, anche quella è stata fatta bene, non è che uno si deve lamentare per forza. È andata bene. E poi a Martina Franca. Martina Franca l'ho organizzata in un centro estetico. Mi è stato proposto dal proprietario di questo centro estetico. E chi ti presentava nel centro estetico? Nel centro estetico ci siamo abbinate tre donne. Una Raffaella Gentile, una dottoressa che ha fatto la relazione, la relatrice, e poi una mia amica, attrice di teatro, Valentina Chiefa, che ha fatto una partitura in autonomia, ha reinterpretato il libro e ha creato questa lettura interpretata. E anche questa è stata, ha creato degli stimoli enormi, perché poi si è scatenato un dibattito di due ore, un po' spinente. E poi è quello che gratifica di più l'autore. Esatto, esattamente. La straordinarietà della scrittura è proprio questa. Cioè ti permette proprio di andare oltre, di confrontarti con gli altri, che è il segreto per aspirare ad essere felici. Quindi il confronto, lo scambio con gli altri. E la sensazione che una cosa che tu scrivi, che ti è uscita così dalla pancia, si dice, un altro dà un suo senso, no? Quindi dà un altro senso. Tanti sensi poi, che parlano comunque della stessa cosa, ti dà proprio l'idea dell'universalità, no? Della scrittura, come della pittura. Sì, anche del fatto che una volta che tu hai scritto qualcosa non è più tua, tu la dai e l'altro vi legge quello che vuole. Eh, questa insomma è una teoria un po' anche molto dibattuta nella letteratura, insomma, anche soprattutto nella pittura. C'è chi dipinge, non fa neanche una mostra perché non vende i libri, perché è come se cedesse un braccio. Invece c'è chi crede che l'arte sia invece proprio il far fruire all'altro. Invece c'è chiunque e quindi la condivisione. Ecco, Gaia, e per farci fruire, diciamo, della scrittura tua, io leggerò un pezzo, un passo, poi ti chiederò ovviamente di raccontare un po' la storia perché il compito di questa trasmissione è invogliare alla lettura dei nostri autori. Leggo proprio l'inizio, dal capitolo primo, io, è il titolo del capitolo, Quella mattina la terza sveglia mi tradì, non sono a distanza di dieci minuti dalla seconda e io aprì gli occhi alle nove. Avevo quindici minuti per arrivare in piazza Garibaldi, alla tazza d'oro, nel centro storico di Massafra. Hai inquadrato un personaggio, nel senso che questo penso che sia il protagonista, che si sta svegliando, all'interno di un territorio che è Massafra, il tuo comune, però tu racconti una storia che si sviluppa su due città, Massafra e Roma, giusto? Sì, sì. E' la vicenda di questo uomo che a un certo punto va in seduta psicanalittica. Sì, è la storia di un uomo, di Vittorio, è un quarantenne, come hai letto l'incipit, tutto nasce da una giornata storta, come credo che sia capitato a chiunque, quindi la terza sveglia, mi tradì, quindi è uno che, probabilmente è uno che mette tre sveglie per svegliarsi. Per svegliarsi, è un po' profondo. O comunque è un po' confuso, guarda ogni modo, dopodiché accetta il consiglio di un amico di sottoporsi ad una seduta di ipnosi per smettere di fumare. Lui un po' non molto convinto, quasi trascinato, accetta di sottoporsi a questa seduta che si tiene a Roma, ma è casuale la scelta di Roma, quella di Massafra lo è, anche se un po' meno, perché vivendo io a Massafra sentivo questi luoghi più... E certo, come i tuoi. ...come i miei, perché ci vivo. Senti, questa è un'abitudine che hanno gli scrittori locali, cioè quella di, soprattutto all'esordio, scrivere di luoghi consueti, familiari, perché, diciamo, si sentono, sono domestici in quei luoghi e sentono un po' il calore, come se volessero tutelare la scrittura nel primo approccio, nella prima uscita. Tu l'hai scelto Massafra per questo o perché volevi che la storia si sviluppasse nel tuo territorio o perché anche il personaggio, in qualche misura, è una sintesi di persone che conosci? Il concetto di autobiografia non esiste. Tutto quello che si scrive è chiaro che è frutto di sé e di tutto quello, della sommatoria, di tutte le esperienze che uno ha fatto. A meno che io non scriva, mi chiamo Gaia Silvestri, ho 34 anni, faccio l'avvocato, quello è autobiografia. Quindi è chiaro che anche se parlo di un palo, parlo di come vedo io il palo, quindi dal mio punto di vista. Quindi è chiaro che parlo di un uomo, quindi io sono una donna, però sono anch'io Vittorio, così come sono vera e così come sono tutti i personaggi che ci sono. Anche perché tu l'hai scritto in prima persona. Io l'ho scritto sì, in prima persona, perché siamo tutti degli individui, no? Siamo uomini e donne, siamo buoni e cattivi, non esistono le categorie separate, i buoni e i cattivi, no? E quindi l'ho ambientato a Massafra perché mi è venuto spontaneo, non ho avuto nessun tipo di costrutto e di sovrastruttura mentale. Ripeto, io avevo il foglio bianco, non avevo nessuna prefigurazione della storia. La storia è nata ed è cresciuta contemporaneamente alla scrittura. Tu descrivi la seduta che quest'uomo fa a Roma e io ti chiedo se ti sei consultata con qualcuno, con uno specialista. Certamente, io ho approfondito, come mi è consueto fare, ho approfondito quello che ho scritto, ho preso spunto, ho chiesto consiglio ad amici psichiatri e psicologi. Durante la prima seduta Vittorio spacca tutto lo studio che gli è intorno, quindi scopre un lato rabbioso, molto aggressivo di sé, che lui ignorava, ma che gli costituisce uno stimolo e un input per elaborare delle represse difficoltà o comunque sofferenze che lui pensava di aver già affrontato. E di aver elaborato. E di aver elaborato, invece così non è. Quindi il monito è questo, cioè di affrontare le micro e le macro difficoltà e di non aggirare l'ostacolo perché poi il dolore ti congela e ti cambia. E quindi che sia un'ipnosi o meglio ancora una forma di introspezione a dare delle risposte. Anche un rapporto, una chiacchiera con un amico, la confessione lasciata a un professionista delle confessioni. Esatto, quindi sottolineiamo un professionista delle confessioni. Delle confessioni, che non è necessariamente un prete. Certamente, o comunque chiunque sia, è importante che sappia quello che fanno, quindi senza capitare in avventori del mestiere come in tutti i mestieri. E certo, che si improvvisano mestieranti. Esatto, e quindi è questa la forza del mio messaggio, cioè di interiorizzare e quindi di autoanalizzarsi. Senti, se un lettore venisse da te e ti chiedesse, Gaia, io ho da scegliere un libro da leggere nei fini di settimana, perché devo comprare il tuo? Compre il mio perché si legge in due ore, 90 pagina, scrittura molto fluida. Del resto le monografie, i tomi, i mattoni creano un po' da deterrente. Qui vanno di più sotto l'ombrellone quando uno ha più tempo libero. Ho pubblicato in autunno proprio per evitare di vedere la corsa con Armoni o col Cruciverba. Leggere la corsa perché sto avendo un sacco di riscontro in questo senso. Tutti mi dicono, ma sono io Vittorio, sono io Vittorio. Quindi evidentemente questo personaggio trova delle identificazioni, nonostante sia un personaggio, ma trova delle identificazioni in una molteplicità di soggetti. Che sono presenti nel tuo territorio, infatti la domanda che ti facevo prima era per capire un po' se anche involontariamente poi tu hai costruito un personaggio che può essere la sintesi di tipi umani che sono nel tuo territorio. Sì e no, involontariamente certamente. Poi io non ho vissuto solo a Massafra, quindi è chiaro che il Vittorio esiste anche a New York. Lo puoi esportare. Lo possiamo esportare, è un prototipo ovviamente, è un prototipo di individuo con le sue complessità, ma che poi riesce attraverso un incontro che risulta essere provvidenziale a trovare una risposta che lo solidifica e lo fortifica. Bene, ci fermiamo qui per questa prima parte di questa puntata di Instant Book. Nella seconda parleremo con Gaia Silvestri, non più soltanto della sua scrittura, ma delle molteplici attività di animatrice culturale nella provincia di Taranto. A tra poco!